Manuela Vico, lei è di ritorno dalla Francia, da Parigi, è stata recentemente all'Eliseo in quanto presidente dell'Alliance Française di Cuneo. Che cosa avete fatto? Perché è andata in Francia? Diciamo che è stata un'occasione particolare e anche il presidente Emmanuel Macron ha invitato tutti i presidenti dell'Alliance Française che erano presenti all'Eliseo appunto perché erano i 140 anni dalla fondazione dell'Alliance Française, nata dunque nel 1883 a Parigi. personaggi illustri tra i suoi primi fondatori e c'era per esempio Pasteur, tanto per citare un nome conosciuto. E non dimentichiamo che Emmanuel Macron è presidente onorario della fondazione dell'Alliance Française, quindi diciamo in tale veste ha invitato tutti i presidenti. E ci sono state parecchie persone interessanti, sono venuti anche dal Madagascar, dall'America Latina, insomma dall'India e era anche presente la presidente dell'Alliance Française di Zaporizia, oltre che diciamo ci fossero anche le altre alliance perché il presidente Macron ha appunto detto le alliance hanno fatto un splendido lavoro anche in Ucraina, proprio in questa occasione e proprio dell'invasione e dell'attacco della Russia hanno collaborato, hanno continuato comunque la loro opera che l'opera è l'azione delle alliance francesi e la diffusione e la promozione della lingua e della cultura francese. E quindi su questo il presidente Macron ha ringraziato l'Alliance Française perché è il più dense rette culturale nel mondo che diffonde questo elemento importante della cultura, la cultura che si basa sulla libertà individuale. Allora, noi siamo riuniti in questo momento per cedere un anniversario, il 140e dell'Alliance Française. Après 140 anni, c'è un progetto che vive ancora portando l'héritage originale e ambitioso di questi fondamentali che sia il geografe Irfonsin, il diplomate Paul Cambon, Jules Verne o Louis Pasteur. Questo progetto in effetti resta pienamente di attualità, vita e dinamiche permettendo alla lingua e alla cultura francese di amplificare il loro ragione su tutti i continenti. Ecco, consolidata è anche la storia dell'Alliance Française di Cuno che è un sodalizio anche molto attivo. Oserei dire di sì perché come tutte le altre Allianze facciamo parte anche di una rete italiana delle Allianze, la Federazione Italiana, quindi c'è un continuo collaborazione e contatto. Diciamo che le azioni sono dal livello educativo, pedagogico, degli esami, degli eventi e manifestazioni culturali. Ovviamente questa è stata per lei anche l'occasione per ammirare quella bellezza che è l'Eliseo. Oserei dire di sicuro anche se chiaramente non abbiamo fatto la visita delle 365 stanze dell'Eliseo. Però già l'entrata è stata meravigliosa perché l'Eliseo si trova al 55 del Faubourg Saint-Honoré che è il più bel Faubourg di Parigi evidentemente, vicino ai Champs-Élysées. L'Eliseo ha sei entrate diverse e un parco di un ettaro e mezzo di terreno con fontane e centinaia di specie di alberi diversi. Quindi è assolutamente una meraviglia, un polmone di verde nel pieno centro di Parigi. Lei, Madame Vicot, nel suo piccolo è un po' un'ambasciatrice della cultura francese in terra cuneese tutti i giorni. Lei è troppo gentile, io faccio quello che posso, mi piace, mi ritrovo bene in questo tipo di cultura che lascia ampia libertà e quindi tento di condividere con le altre persone la mia passione. Grazie.